L'associazione che nasce nel periodo staliniano dell'Unione Sovietica come reazione rispetto alle pene sproporzionate che venivano attribuite per reati pagatellari. Nasce così questo gruppo che ancora ha il nome di ladri di legge, dediti a furto, ai furti, e dediti poi un po' per regole che già avevano altre, evidentemente in carcere le ha suggerite, ovviamente di grande compartimentazione, di segreto, tanto che inizialmente ad esempio era vietato sposarsi o comunque avere rapporti duraturi perché questo metteva in difficoltà il segreto interno. Questo non c'è più e noi troviamo quindi in Italia evidentemente dei gruppi che non hanno più queste caratteristiche. L'assoluta riservatezza però ci tranquillizza rispetto ai tanti che lavorano e faticano in modo recito nel nostro paese di cui c'è assoluto bisogno. Quindi sono due fenomeni anche facilmente distinguibili perché proprio una delle caratteristiche dell'associazione è di non farsene conoscere prima di tutto tra loro e tra i georgiani. Grazie.